Sempre fortemente attuale, in questi giorni che ricordano la tragedia di San Giuliano di Puglia, la sicurezza delle e nelle scuole resta un pensiero fisso e un'esigenza assoluta. Tutte le opere pubbliche dovrebbero essere sottoposte a controlli severissimi a tutela dell'incolumità degli utenti, con pene ancora più gravi per chi espone sconsideratamente a rischio i fruitori dell'opera pubblica stessa. Sono le parole dell'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che ha partecipato alle iniziative del ventennale. Io sono stato presidente della Commissione antimafia e ho capito che tante cose in Italia non vengono fatte funzionare appositamente, perché le leggi ci sono, però non vengono rispettate, semplicemente perché bisogna favorire chi lavora male. Non sempre chi lavora male appartiene a un sodalizio mafioso, ma quello che voi avete vissuto nel 2002, a fine ottobre del 2002 dimostra che quantomeno la cura della cosa pubblica era l'ultimo dei pensieri per gli amministratori, anche e soprattutto per gli uffici tecnici, perché qua a giudizio sono andati dei tecnici e poi sono stati condannati, sappiamo con quale traversia giudiziaria, però alla fine, lasciando stare le condanne, se semplicemente si fosse rispettata la legge, noi avremmo 28 vite umane ancora qui con noi. Morra è intervenuto anche alla presentazione del libro del procuratore del Tribunale dei minorenni di Campobasso, Claudio Di Ruzza, che rappresentò la pubblica accusa nel processo d'appello per il crollo della scuolaiovine. C'è un filo sottile, scritto a proposito dei disastri d'Italia, testo di Di Ruzza, che unisce il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia ai tanti, troppi accadimenti tragici della nostra storia recente. È giunto il tempo di una battaglia di civiltà, perché in un paese che si vuol definire civile non è accettabile, scritto ancora nella descrizione del testo, che delle scuole uccidano bambini, che un ponte crolli mentre le famiglie vanno in vacanza, che si perda la vita perché un treno esplode a un passo da casa, che si muoia per incuria, interessi economici e mancati controlli.